Fabio, Omar, tutto bene? Sì, mi hai chiamato, ho risposto. No, infatti è abbastanza normale questo, ti deve spuntare. In sala il tuo nuovo film, 3 di troppo, ne parliamo a lunghissimo in questa intervista, lo vivisezioniamo in ogni suo aspetto. È una minaccia, è una minaccia agli abbonati, parleremo a lunghissimo. Però abbiamo parlato anche di tante altre cose, come ad esempio del tuo amore per il tip-tap. Tip-tap seduto però, sai che io sono un altro tip, è un'altra categoria, sì. E anche di una recita che hai fatto a scuola con la ragazza, la bambina, che al momento ti piaceva tanto. La teniamo quella cosa lì. La teniamo. Vabbè, se ti interessa, sì. Come era andata? È una storia alle tuofine? È una storia alle tuofine che vi terrà incollati ai vostri schermi di casa. Non svegliamo nulla. No, per carità. Non svegliamo due cose. Questa storia è il finale del film. È il finale del film, sono due le cose che non dobbiamo... Per il resto. Per il resto via lisci. Grazie. 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 Grazie.